Siamo al Consiglio Comunale di Cervinare con il consigliere Viola qui andiamo a domandare, è andata deserta anche questa ennesima seduta del Consiglio Comunale che votava un unico punto all'ordine del giorno, importante per l'Unione dei Comuni non c'è il numero legale, adesso cosa succede? Dire il vero, non so per quali motivi, forse per motivi personali ci mancava più di una persona oggi in Consiglio Comunale sia da parte dell'opposizione che dalla parte della maggioranza l'opposizione ha ritenuto il caso, è passata l'ora di attesa, di non aspettare pensiamo e sono concordo sul fatto che su un argomento così importante come dicevi tu prima, è fondamentale che ci sia la presenza di tutti i consiglieri comunali poi indipendentemente dall'esito del voto perché insomma è una questione di interesse generale quindi è giusto che se ne parli, ci sia il contributo da parte di tutti se vogliono dare la loro adesione all'Unione dei Comuni sicuramente sarà rinviata una prossima data che il Presidente del Consiglio stabilirà penso quanto prima anche perché gli altri comuni della Valle Caudina hanno già deliberato quindi insomma rimane solo Cervinara ad esprimere ancora il suo ok sullo statuto Siamo con il consigliere Sergio Clemente con cui andiamo a parlare di questo importante Consiglio Comunale che si doveva tenere però per mancanza di numero legale non si è tenuto la domanda che sorge spontanea per dire alla Lubrano cosa succederà adesso? Beh alla domanda spontanea c'è una risposta che è altrettanto spontanea è una maggioranza che chiaramente non c'è che vive sul ricatto del singolo che basta che sia assente per mandare tutto all'aria questa volta è assente Monetti la volta prossima sarà assente altra persona la volta precedente l'altra ancora ma i numeri sono così esigui che non permettono di governare in dieci il Consiglio Comunale non lo possono tenere oggi mancava l'undicesimo ripeto che era Monetti in un'altra occasione mancherà un altro ed è il momento giusto e con dignità bisogna andare a casa Bene consigliere parlando di questo momento giusto il punto all'ordine del giorno di oggi era qualcosa di veramente importante Ma sai è talmente importante la questione che per passare in Consiglio Comunale ha bisogno la prima volta che viene discusso dei due terzi i due terzi tutti comuni Montesarchio, San Martino tutti comuni che fino ad oggi hanno discusso e hanno fatto passare questo punto all'ordine del giorno l'hanno così approvata la questione qui due terzi non vi sono e quindi la questione non si approva perché è una maggioranza appunto di undici persone contro dieci è una maggioranza che non riesce nel momento in cui deve esprimere gli undici voti neanche ad esprimere gli undici voti di che cos'altro vogliamo parlare non possiamo parlare più di nulla non possiamo parlare più di nulla